I Vigili del Fuoco hanno appurato che i sistemi di sicurezza per quanto riguarda l'antincendio erano assolutamente a norma, anzi aggiungerei io siamo oltre la norma perché ovviamente per quanto riguarda estintori o quant'altro serva in queste situazioni ATER usa sostanzialmente mettere più situazioni in sicurezza. Perciò se sono previsti, faccio un esempio, 10 istintori e noi sicuramente ne mettiamo 15 per quanto riguarda i dranti è la stessa identica cosa. Posso assolutamente confermare che nel mese di febbraio, non mi ricordo se febbraio o marzo, sono stati fatti gli ultimi controlli e siamo assolutamente a norma fino al 2026 certificati. Un'altra cosa che va detto e sfattato questo mito di questa giornata un po' convulsiva tra ieri, quella di ieri e quella di oggi dove si dice che appunto bisogna avere degli impianti antincendio adeguati, tengo a sottolineare che sono degli edifici che avranno 60 anni. Gli edifici non hanno sistemi di sicurezza antincendio come possono avere gli ospedali, come possono avere gli alberghi, le autorimesse, stiamo facendo forse un po' di confusione. Gli impianti di sicurezza sono quelli che di norma sono conosciuti a tutti, sono gli idranti, sono gli estintori, ma sistemi di sicurezza che vanno oltre, splinker si chiamano quelli che vengono adoperati negli ospedali per esempio, non sono assolutamente parametrati a quelle che sono le abitazioni normali. Questo non risolve la tragedia chiaramente. Lei ieri si è interessato subito per il successo? Alle 9 del mattino, quando l'ho saputo, la prima cosa che abbiamo fatto è che abbiamo cercato di tirare fuori tutte le certificazioni per capire dove ci poteva essere qualche problema, se serviva e non c'era qualcosa. Ma abbiamo visto che anche se doveva essere qualcuno che apriva o faceva o spegneva, insomma, era una situazione impossibile, devastante, perché comunque all'interno di un appartamento doveva veramente era chiuso e di conseguenza solo chi abitava all'interno poteva forse fare qualcosa. Purtroppo non è stato così.